Musica Ora un concerto speciale in programma il 19 novembre a Sansevero al Teatro Verdi. Si omaggia la memoria dei caduti italiani in missione a organizzarlo e tra gli altri l'associazione Mario Frasca. Vediamo. Giorno 19 novembre ci sarà un concerto organizzato dal comune di Sansevero con il patrocino della provincia di Foggia in collaborazione con l'associazione Ollus Mario Frasca. Ci sarà un concerto in ricordo dei 177 caduti italiani nelle missioni internazionali di pace del mondo. Al Teatro Giuseppe Verdi ringraziamo ovviamente il sindaco avvocato Francesco Miglio che è anche presidente della provincia attuale e auguriamo a tutti quanti voi di esserci in questo concerto perché l'importanza è notevole. Il ricordo è la memoria di ciascuno di loro che ha perso la propria vita per la patria. 177 caduti e tal proposito ricordiamo anche i nostri caduti della Capitanata da Salvatore Maracino in Iraq, Dragano Pasquale di San Giovanni Rotondo, Francesco Saverio Positano in Afghanistan e Mario Frasca anche in Afghanistan. Questo concerto sarà diretto dal maestro Antonello Ciccone, orchestra di Fiati. Per l'occasione la mia orchestra eseguerà un programma lirico-sinfonico con la partecipazione di due cantanti lirici, di un tenore e di un soprano. Per l'occasione voglio ringraziare l'amministrazione comunale che mi ha accolto questa istanza perché ovviamente sono il teatro artistico del teatro Giuseppe Verdi per le arte varie e quindi ringrazio anche l'associazione Mario Frasca di aver collaborato insieme a me a questa riuscita di questo concerto che mi onoro di presentare quella sera in forma musicale. Grazie a tutti.